un saluto da davy oggi ragazzi vi mostro il mig 15 ns 23 aereo sovietico vediamo subito qualche specifica tecnica era 5 livello di combattimento 9.0 cannone da 37 con 40 munizioni due cannoni da 23 con 160 munizioni le specifiche tecniche che vedete non sono al massimo perché non ho sbloccato tutti i pezzi anzi ne ho sbloccato solo uno per quanto riguarda la velocità massima attuale è di 987 chilometri ad altitudine livello del mare quota massima 15.500 metri tempo di attenzione 23.6 secondi tasso di salita 33.1 metri al secondo spazio di decollo in 600 metri corazzatura vediamo rapidamente che abbiamo il vetro antiproiettile da 64 mm per quanto riguarda i raggi x avremo praticamente i cannoni posti davanti al muso ecco quello da 37 e i due da 23 poi vediamo qualcos'altro allora qui ci sono il cannone il serbatoio bello grande e il motore altro serbatoio posto dietro il motore ma ragazzi direi che ci siamo piccolo stacco e ci vediamo in partita perfetto ragazzi sono pronto a mostrarvi una partita mappa corea mig 15 ns 23 pronto all'uso 30 minuti di carburante in 15 secondi saremo respawnati quindi siamo pronti a questa sfida sicuramente dall'altra parte avremo giapponesi americani e britannici vediamo se è così è tutto massima potenza no solo americani e inglesi siamo solo sovietici una sfida di un'intera nazione mig 15 mig 9 l 28 mig 15 bis la cinque la 15 abbiamo tutto sta a noi sfruttare le nostre potenzialità mig 9 sicuramente farà un pochino di fatica contro i vari hunter e f86 però magari loro hanno i mitior che vanno un pochino a compensare la differenza allora il 28 ne abbiamo 33 bombardieri cerchiamo di decollare vediamo rapidamente l'interno se sapete tradurre fatemelo sapere modalità mirino quello che vede il pilota ormai la pista è alle nostre spalle cerchiamo di prendere la velocità il prima possibile andiamo già a destra poi una volta che saremo sui 700 chilometri all'incirca potremo alzare il muso per il momento mettiamo io metto sempre questa visuale perchè mi dà un riferimento dell'inclinazione altrimenti dovrei e come vedete alzare il muso senza sapere l'inclinazione esatta preferisco avere ripeto un'inclinazione di riferimento allora 30 addirittura abbiamo anche lo yak 30 lì c'è il classico camberra che distrugge tutto quel che incontra maledetto ah no si è praticamente non parlo più va bene ti sei stancato e sei uscito dalla partita meno un giocatore però alla fine il camberra non avrebbe influenzato più di tanto l'esito della partita mig 15 mig 15 mig 9 mig 9 la 15 gli ak 30 le missioni proteggi il ponte fino al passaggio dei carri armati alleati impedisce carri armati nemici di attraversare il ponte fatto aiuta le truppe di terra conquistare il campo di aviazione distruggi tutte le basi nemiche è sempre un piacere leggere le missioni che non verranno mai fatte allora cerchiamo di sì no ok così siamo 800 niente di meno lì c'è il primo problema che si chiama f86 che dà fastidio il nostro il 28 il 28 che ha come difesa primaria la torretta e sulla coda che purtroppo in questa occasione non ha fatto alcun danno in quanto le f86 ha distrutto il nostro povero il 28 comunque vediamo lì c'è un meteor come mi immaginavo ok lì c'è le foto io direi ragazzi allora dice l'hunter però l'hunter è un problema l'hunter è un problema allora io direi subito di andare l'f2 è fattibile qui andiamo un attimo installo ma è tutto calcolato perché siamo a 5 mila metri quindi e non vedo nessuno nei paraggi allora qui diciamo che la scelta dovrebbe andare immediatamente sul sul l'hunter però è difficile buttarlo giù già ve lo dico se faccio una kill già è abbastanza allora c'è il 15 che viene subito in ovviamente i mig 9 e qui si trovano un pochino come dei pesci fuor d'acqua perché non possono assolutamente competere contro le f86 e l'hunter e già non riesco a prenderli io e non ho il motore tutto sbloccato ok però immaginate il mig 9 che fatica può fare io qui forse vado a recuperare qualcosa sull'f86 però non so perché lui adesso la chiude e quindi io non riesco ad avere il tiro necessario per buttarlo giù anzi forse non so non lo so se non mi va in bravo e ho fatto capire che c'ero le f86 gli attenti si sono scontrati bravi mig 9 vedete che prova si vede clamorosamente il distacco che si va a creare poi il mig 9 viene brutalmente eliminato però siamo già nei guai dopo pochi minuti quindi davvero in guai molto serio perché come vedete giù l'f86 sta dominando io magari adesso provo a prendere questo f86 che sembrerebbe andare sul mig 15 però difficile anche perché vedete l'antern sono già questa qui è già una partita persa come vedete abbiamo perso troppi aerei troppi mig 9 secondo me era da bilanciare maggiormente comunque proviamo magari a fare almeno una kill della vittoria allora qui c'è l'antern che prova a cerchiamo di dare supporto a quel giocatore per quanto sia possibile però un attimo senza controllo direi che abbiamo abbastanza tempo per recuperare magari andiamo su quella f86 che deve per forza di cose salire altrimenti ok una kill per devi diciamo che è una kill meritata per dare un pochino di fiato alla squadra però non non andremo a fare una vittoria già ve lo dico è una vittoria impossibile anzi preparatevi alla sconfitta più clamorosa che abbiate mai visto perché no clamoroso no dai perché come vede la squadra è stata completamente distrutta io una kill ok però c'è troppa differenza troppa differenza e non si vince adesso noi proveremo provo a fare un'altra kill comunque avete visto bene o male che avere l'aero tutto sbloccato è una cosa molto importante la velocità è fondamentale a questi livelli io come sapete questi qui sono gameplay non è che vi mostro e le 10 kill vi mostro un pochino come funziona l'aereo quindi vediamo un pochino se riusciamo magari un'altra kill l'f2h sarebbe stata cosa buona da affrontare per i mig per me sarebbe stato tra virgolette facile però con tutti quegli f86 con tutti gli hunter come si fa poi i nostri mig 15 rimangono bassi cioè almeno abbiate il buon senso di rimanere alti e provare una tattica come sto facendo io ma se voi state a 500 metri di altezza loro vi fregano sulla velocità e come in men che non si dica tornate all'aeroporto allora qui la soluzione è molto semplice dobbiamo provare un attacco al più debole o a quello che offre un tiro più facile il hunter non riesco a seguirlo perché troppo veloce l'ef86 sembrerebbe virare verso di me proviamo ad andare sull'ef86 devo stare attento a non perdere velocità lui adesso probabilmente andrà ok vai così adesso lui farà un loop forse vediamo adesso il mio pilota però sarà abbastanza stanco infatti senza controllo appena recupero devo salire immediatamente devo salire perché lui non ce la fa seguirmi perché non ha abbastanza potenza io ho ancora 600 chilometri da giocare 500 chilometri come vedete sta andando in stallo decide di desistere se l'avessimo giocata tutti così forse avremmo avuto qualche maggiore possibilità di dire la nostra non l'avremmo vinta ugualmente la partita e attenzione perché ripeto il mig 9 troppa differenza però almeno davamo un po qui un pochino di fastidio in più allora c'è l'ef2h che sembrerebbe voler fare da esca per farmi perdere velocità però io devo devo a questo punto provare vedete c'è anche quel maledetto f86 che non mi aveva mollato e mi va a fare un danno molto importante all'ala e infatti io vado giù come un sasso purtroppo purtroppo sì purtroppo sì purtroppo sì una fine davvero bruttissima l'aereo viene fatto in mille pezzi però era una partita dove non potevamo fare assolutamente nulla vediamo cosa è rimasto in squadra sono rimasti solo due aerei quindi direi che è da apprezzare la kill che l'unica kill che ho fatto non sa abbiamo fatto due kill tre kill in totale di cui due dl 28 e una io quindi questo fa capire uno il livello della squadra già io non so giocare e quindi mettiamo una chiedra su questa cosa poi la squadra neanche collabora e quindi questo qui è il risultato direi ragazzi che per oggi può bastare così avete visto le potenzialità del ming 15 ns 23 non completamente sbloccato quindi ragazzi io vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale in modo tale non prese i maggioramenti e noi ci vediamo alla prossima buona fortuna dl 28 ciao